Grazie perché è un'accoglienza del genere incredibile, sono felice di aver scelto Catania per la mia prima domenica. È un comizio un po' così, però sono più belle le cose così, senza bacchette magiche, senza mille promesse. Mi ricordo i motivi per i quali ci avete scelto, lavoro, meno tasse, via la legge fornello, difesa dell'agricoltura e la festa e soprattutto difesa dei confini. Con calma, con calma, il mio impegno sarà di far rispettare le leggi che esistono e laddove sono sbagliate di cambiarle, perché accogliere donne e bambini che scappano dalla guerra e salvare queste vite è un povere sottosato. Ma l'Africa in Italia non ci sta.